Buonasera e benvenuti a tutti alla partita tra Panamano e Amo Padova e i Cingoli, valevole per la Serie A massiva e Givore B. Per i Cingoli, con il numero 20, Gentilotti Magno, per il numero 16, Ancestiniano, per la prima volta, Ancestiniano Gattano, per il numero 4, Gia Nascoglio, per la prima volta, Gia Nascoglio, per il numero 25, Ancestiniano, per la prima volta, Ancestiniano, per il numero 21, Ancestiniano Gattano, per il numero 15, Ancestiniano, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a 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 tutti. tutti. a tutti. 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 a tutti. 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 Grazie a 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 tutti. No. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti.